A Giarre domani sera tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale. Se l'attività ispettiva non si protrarrà per lungo tempo, si potrebbe procedere al voto dei due regolamenti all'ordine del giorno, quello sull'autonoleggio e quello sugli scuolabus, a meno che nella maggioranza qualcuno non si metta di traverso, cosa che con il clima politico che si sta respirando in questi giorni a Giarre potrebbe tranquillamente succedere. Per il resto domani il sindaco Roberto Bonaccorsi dovrebbe recarsi agli uffici finanziari per un'ultima verifica del bilancio di previsione che prima di essere portato in giunta. A brevissimo dovrà arrivare anche il parere del collegio dei revisori dei conti sul conto consuntivo, che invece dovrà essere discusso e votato in Consiglio Comunale.